stasera pensavamo di cominciare in un modo un po diverso e cioè perché no se qualcuno di voi ha una domanda da fare perché no cosa vi viene in mente parlando di matrix cosa cosa che vi interessa c'è qualche aspetto che vi piace particolarmente di cui vorreste parlare è veramente un argomento enorme grandissimo e a seconda della domanda che farete se la farete o io o fabio vi risponderemo siccome per poter uscire dalla matrix sentite un tuo video ma anche l'esperienza ci vuole tanta energia cioè come riusciamo a trovare l'energia la forza d'animo interiore per in questo momento cerca in tutti i modi di toglierci energia in un modo o nell'altro quindi se la domanda è bellissima è vero che per uscire dalla trappola ci vuole molta energia assolutamente sì io immagino che voi siate persone che intanto spero che tutti quanti voi abbiate idea di cos'è questa matrix insomma comunque intanto lo vedremo stasera però è vero che richiede tantissima energia e quindi la domanda la domanda giusta come si fa risparmiare energia come si fa trovare energia beh intanto voi vado intanto come non sprecare l'energia e anche questo è un argomento vasto per esempio non si spreca energia interpretando l'esistenza terrena l'interpretazione dà la possibilità di vedere alcune cose assolutamente a un'ottava diversa da due aspetti completamente diverse completamente opposti vi faccio qualche esempio nella vita di coppia molto spesso si perdono molte energie è così perché si litiga perché c'è molto possesso di solito così c'è molta gelosia c'è molto attaccamento a livello di coppia ora il fatto che adesso noi siamo non siamo in coppia è irrilevante perché tutti quanti noi abbiamo conosciuto questa esperienza a fondo e abbiamo passato anni a vedere come gestire questi rapporti di coppia dico rapporti di coppia è un esempio come un altro però ci capiamo tutti quanti perché tutti quanti ci siamo passati più o meno in queste forme di perdite di energia totali molto spesso per delle malcomprensioni bene cosa c'entra l'interpretazione per esempio in un rapporto di coppia bisogna inquadrare le cose da un punto di vista animico come al solito e l'ideale sarebbe quello di non ascoltare qualcuno che parla della vita dell'anima e degli obiettivi dell'essere anima ma cercare di scoprire all'interno di se stessi quella parte animica che noi siamo che noi abbiamo e che ci fa comprendere la realtà e ci fa vedere la realtà con occhi completamente diversi allora una cosa è certa su questo pianeta che tutti quanti noi quindi tutti quanti voi nessuno escluso nessuno escluso quindi stasera cercherò di parlarvi a livello individuale a livello intimo se possibile perché fare dei discorsi così campati per aria non serve a niente secondo me in questa presentazione di stasera già possiamo ottenere qualche risultato e per fare questo sarebbe interessante che voi prendiate quello che dirò a livello personale a livello intimo poi vi aiuterò io a fare questo tipo di riflessione interiore bene tutti quanti noi tutti quanti voi abbiamo una certezza cioè siamo venuti su questo pianeta per imparare il non attaccamento su questo non c'è alcun dubbio nessun dubbio semmai se qualcuno di voi è un dubbio mi fa un'altra domanda e parliamo di questo però io penso che se siete qua stasera un'idea ce l'avete non solo perché il non attaccamento è alla base del buddismo uno dei principi fondamentali ma al di là sapete che non parlo di religione una o l'altra parlo solamente di principi spirituali che poi si si collegano tutti quanti in tutte le regioni del mondo che non sto parlando di qualche cosa di drammatico sto parlando di qualche cosa di estremamente logico e questa si chiama appunto logica spirituale io spero che tutti quanti voi vi siate resi conto che una delle lezioni più importanti che dobbiamo imparare su questo pianeta è il non attaccamento perché abbiamo imparato che l'attaccamento è la fonte di ogni sofferenza non so se avete dei dubbi io non ho alcun dubbio su questo se guardo tutte le mie sofferenze specialmente psicologiche posso stabilire che sono io che me ne sono create e che ogni volta che a questo tipo di sofferenza c'è una forma di attaccamento così simpaticamente avete già fatto un lavoro di questo una riflessione di questo tipo tanto per sapere tanto per sapere sto parlando ai muri e mi fate così con la testa anche tu lei nel fondo vi siete accorti di questo è che quando soffriamo centinaia di volte ma qui è la vita questo mi basta questo vuol dire che posso andare un po più profondità se mentre se mentre vi racconto delle cose vedo che queste cose sono acquisite per voi questa è una meraviglia perché se non fossero acquisite cosa dovremmo fare dovremmo dire boh alt fermiamoci tutti e vediamo partiamo da capo non è così che cos'è non l'attaccamento e perché l'attaccamento crea sofferenza si può dire due parole comunque perché l'attaccamento crea sofferenza semplicemente perché tutto quello che noi vediamo ascoltiamo tocchiamo su questo pianeta è aria fritta va bene anche il fidanzato è aria fritta perché fino a quando noi siamo concentrati sull'aspetto esteriore sull'aspetto personalità noi sappiamo benissimo che la personalità muore già abbiamo un'indicazione per la sua domanda perché incominciamo a vedere che quando noi ci rapportiamo come anime a delle anime beh in quel caso incominciamo a vedere un certo tipo di realtà allora succede quello che vi sto raccontando cioè che l'interpretazione dell'esistenza cambia e ho fatto solo un piccolo esempio che adesso approfondiremo un po quindi immaginate che voi abbiate compreso con profondità che l'attaccamento crea sofferenza va bene beh nella vita di coppia la maggior parte dei problemi non deriva da un atteggiamento di attaccamento verso i partner si può dire di no è impossibile sapete come funziona l'innamoramento innamoramento dura due minuti tre minuti che chi di voi ascolta i miei video lo sa perché l'avrò detto in questi anni avrò detto mille volte che non serve a niente vi devo dire non serve a niente perché il fatto che le persone sappiano che dura due minuti non ne fa un baffo nessuno perché vanno avanti comunque per anni giustamente è così questo pianeta è fatto così però sarebbe così importante così importante così fondamentale per guadagnare questa energia nel momento in cui noi siamo innamorati invece di cadere in amore voi sapete che si dice così in inglese in francese probabilmente anche il cinese non lo so ma cadere in amore significa veramente questo significa che c'è qualcosa che si sgretola e quindi si incomincia avere paura di perdere il proprio partner voi vedete bene che un atteggiamento di serenità interiore e un atteggiamento di paura fa già un enorme differenza a livello energetico lo vedrebbe anche lo capirebbe anche un bambino questa cosa qua nonostante noi sappiamo questa cosa qua perché io vedo che voi la conoscete bene questa cosa a livello cerebrale voi siete preparatissimi si vede che avete capito tutto qui il problema il problema qual è che sembra sembra impossibile perché veramente tutti questi anni e tutte le volte l'ho ripetuto eppure ogni tanto c'è qualcuno che mi chiama mi ha lasciato mi ha lasciato mi ha tradito e io ancora da capo si guarda stai imparando il non attaccamento si stami si 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 sta parlando un attaccamento fai fai presto tu e ci caschiamo tutti quanti e tutte queste persone sanno benissimo dove dove hanno sbattuto la testa lo sanno benissimo quindi vi permetto di parlare anche con voi come se voi faceste parte di questa categoria di questa categoria categoria di storditi ma il senso simpatico per carità non offendetevi però uno dei primi passi per risparmiare energia è quello di rendersi conto di essere un po storditi vi assicuro che detto con detto con termini più eleganti e come si potrebbe dire ma se vi viene in mente qualcosa io vi dico naturalmente scherzando che siete un po storditi come si potrebbe dire questa cosa in un modo molto più elegante questo vi viene in mente sentite adesso cosa vi dico io aiuto fai bene di raiuto che il sistema ti sei messo in prima fila problema tuo sentite perché voi pensate di avere occhi per vedere ma non vedete un belin perché voi pensate di avere orecchie per ascoltare ma non sentite un belin è chiaro non è un modo più elegante per dire la stessa cosa che noi siamo degli storditi allora il problema diventa chiedere a se stessi io ho occhi per vedere io ho orecchie per ascoltare che un po la stessa cosa naturalmente vedete che questa frase famosissima tratta dai vangeli naturalmente è la cosa che vi dicevo prima cioè la capacità di interpretare l'esistenza non è così chi ha occhi per vedere immaginiamoci è avere occhi per vedere tutto un mondo enorme naturalmente però insomma si può incominciare a riflettere su questa cosa semplicemente dicendo indubbiamente chi occhi per vedere consumerà meno energie nella vita quotidiana immaginatevi un po semmai vi faccio mille esempi adesso però avete capito un po cosa voglio dire chi non sa interpretare l'esistenza quindi chi non ha occhi per vedere cade in tutte le trappole che che il mondo della personalità gli pone davanti è così allora quindi avete un problema col partner cosa accade se voi siete in pieno nella trappola nella matrix disperdete una marea di energie con quelle che sono le ripicche con quelle che sono sì quei giochi di potere tra tra i partner noi tutti quanti conosciamo questa cosa perché siamo cresciuti in un mondo dove le cose funzionano così quindi anch'io ho vissuto tutte queste cose le mie crisi di gelosia le mie crisi di attaccamento poi fortunatamente un giorno mi sono messo a riflettere un po sul senso della mia esistenza e ho visto che ero completamente stordito completamente stordito fino al famoso giorno appunto in cui dopo aver girato per il mondo a cercare qualcuno che mi potesse dare delle risposte esistenziali in oriente in occidente giravo come un matto perché l'unico mio interesse era capire il senso delle cose il mio principio era caro massimo caro max o capisci perché sei al mondo se no cosa ci stai a fare perché stai perdendo del tempo stai consumando le tue energie in cose senza senso sta accumulando oggetti che i ladri possono rubare e che la ruggine può consumare che un'altra frase del vangelo è un certo punto ritornando a casa in italia un giorno apri a caso il vangelo che io assolutamente snobbavo perché perché sono cresciuto in oratorio ricordate una volta c'era l'oratorio e qualcosa non ricorda l'oratorio bellissimo oratorio dove si giocava un po tra ragazzi noi avevamo anche il cinema il cinema e quindi bo tra l'altro qualcuno di voi sa già che il prete mi faceva leggere il vangelo della domenica io non ci capivo niente leggevo così padabà 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 però il parroco diceva che io ero portato per leggere il vangelo c'è questa cosa poi a distanza di anni vorrei rivederlo sarà già in paradiso da una marea di tempo però vorrei rivederlo per dirgli ma sapete quelle cose quelle cose strane guardate che guardate che la vita è piena di queste cose strane molto spesso noi incontriamo degli angeli ma non ce ne rendiamo assolutamente conto avete mai pensato questa cosa qua e a distanza di anni a volte si dice ma un momento un momento poi gli episodi ne posso raccontare tanti questo non vuol dire che ho visto questi angeli di fianco a me capito in momenti di follia per esempio quando ero giovane come tutti i giovani quando andavo a far rispetti nella notte per vedere se era così difficile morire frase del vangelo che questo beh mi sono accorto che poteva anche morire prendete la cosa simpaticamente però dopo ci ho pensato detto accidenti andavo come un pazzo a far rispetto veramente a far rispetto perché sapete che c'è l'età della della stupidera dove dove ci si mette alla prova è così e può andare bene può anche andare male perché tante volte va male ora poi dietro c'è c'è un destino comunque su questo non c'è dubbio è perché adesso non entriamo in questo argomento però è proprio così e mi sono accorto che in certi momenti è come se ci fosse un'entità angelica ma lo dico senza prendermi troppo sul serio non è che dico ho visto gli angeli però non c'è dubbio che e poi ripensandoci in quei momenti di follia e becce avevo proprio la sensazione che ci fosse qualcuno che qualcosa qualcosa che mi desse una mano in quelle circostanze di ora non è che voglio raccontare la mia vita però mi ricordo che per esempio tutti i miei amici della mia età quindi 18 20 anni così si drogavano tutti tutti perché tutti perché i miei amici erano naturalmente musicisti poeti pittori beh potete bene immaginare essendo portato verso l'arte non è che non è che andavo giocare a carte non davo vedere la partita semplicemente poi ci si attira come per una specie di feeling e quindi tra artisti ci frequentavamo andavamo insieme a bere qualche cosa discutere di filosofia mi ricordo le notti passate a passeggiare per cremona non so perché riparo queste cose magari non me ne frega niente però fa niente ha dato che la presentazione fa niente conoscete meglio poi vi raccontare la sua storia la sua infanzia ma lui è un bravo ragazzo lui non ha mai trasgredito e quindi mi ricordo le passeggiate di notte a parlare di filosofia dove io accompagnavo qualcun altro e passavo a cremona mezza città cremona nella nebbia che la nebbia perché sono andato lì non è colpa mia si è in realtà il giro prendo la chiave di giro del mondo papu asia nuova però sono andato a chiave quindi quando aveva 18 a cremona e quindi mi ricordo queste passeggiate notturne nella nebbia e adoravo la nebbia quando sapete la nebbia che si taglia col coltello si assi si 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 bellissima quindi queste passeggiate quindi la città da una parte all'altra accompagnavo qualcuno poi arrivavamo a casa sua lui dice vabbè adesso ti raccompagno indietro che per queste notti passate a parlare di filosofia ma cosa voglio dire con questo che tutti i miei amici ricordo che quando avevo 18 anni arrivò la droga pesante in italia no veroina arrivò la droga pesante e la maggior parte di voi sicuramente non si ricorda ma io ricordo benissimo che venne presentata come un sistema per uscire da matrix siamo in argomento è un racconto benissimo perché perché dice è arrivata una sostanza che finalmente questo mondo di merda cercate di capire cosa voglio dire allora non c'era l'idea della matrix però c'era l'idea che che comunque il mondo era organizzato in un modo estremamente pesante senza senso perché tutti questi artisti cosa volevano fare vivere dalla loro arte non andare a lavorare in banca non andare a lavorare come commercialista con tutto il rispetto però nessuno aveva voglia di fare queste cose ognuno voleva vivere della sua arte quindi già si trovavano degli ostacoli nella vita comune questo è chiaro insomma anche lo studio la scuola questo rigetto per una scuola che non insegnava ancora e ancora la scuola era mille volte meglio di quella che c'è adesso perché insomma che insomma io sono molto contento di aver studiato il latino di aver studiato la storia la geografia educazione civica queste cose però vabbè adesso sembriamo dei vecchi bacuchi che dicono ai miei tempi senza venti andare ai miei tempi non voglio dire questo però ovviamente comunque c'era già questo rifiuto della società e come se c'era bene quando arrivò la droga pesante e fu una fu una festa perché effettivamente c'era questa impressione se ne parlava così è arrivata finalmente una sostanza che ci fa uscire da questo mondo da questa matrix da questo mondo fasullo per certi aspetti per certi aspetti potrebbe anche essere così voi sapete bene che in realtà non è così perché tutte le droghe quasi tutte le droghe adesso non voglio parlare di questo ma così tutte le droghe sono strumenti oscuri che sono che vivono in pieno nella legge di compensazione quindi è un disastro insomma la droga è un disastro perché comporta delle spirali discendenti di cui non voglio parlare adesso se mai mi interesserà vedremo beh perché dico questo perché quando successe questo questa cosa non mi convinceva per niente eppure tutti i miei amici erano entusiasti di questa così ascoltava questa cosa io dicevo no non può essere così io non posso essere così debole da un certo punto di vista di affidare a una sostanza esterna sostanza chimica o mezza chimica la mia comprensione del mondo e mi ricordo bene che in quel momento fece una promessa a me stesso e sono qua ancora e sto ancora lavorando per quel progetto e cioè mi dissi sono sicuro che io posso provare le stesse cose che i miei amici provano in seguito delle sostanze psicotrope senza utilizzare alcun tipo di droga alcolo cosa del genere perché feci questo chi lo sa perché adesso uno adesso potremmo scegliere potremmo dire qualcuno ci dice boh fatti fatti una pera no fatti attiva un vaccino altri cosa potremmo dire no capito adesso potremmo essere in grado ma quando si ha 18 anni e quell'età in cui si vuole veramente sperimentare tutto eppure il mio no fu deciso e non era solo un no perché non mi fidavo della cosa era un no propositivo vi capite cosa voglio dire e cioè questo dimostrare agli altri non era per dire io sono bravo vi siete dei festi no assolutamente era per amore dei miei amici capite cosa voglio dire e questo mi ha cambiato la vita è cambiato la vita perché 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 questa scelta ha fatto in modo che non mi abbandonassi a questo tipo di esperienze e anche qua quanti parlava prima di entità che ci aiutano perché no perché no non c'è stato nessun angelo che è venuto di a parlarmi nell'orecchio non sto dicendo questo però a volte nell'esistenza terrena facciamo delle scelte che poi dopo tanti anni ci accorgiamo che hanno scelte fondamentali visto che sto parlando di me adesso vedo comunque che mi state annoiando quindi non so partita così stasera fa niente tanto una presentazione quindi no si può anche scherzare ricordo una volta per esempio aveva una fidanzata che aveva la mia stessa età e lei appena appena arrivata alla droga aveva cominciato a farsi sapete cosa vuol dire farsi nel gel fino a quando poi era diventata tossica forse non a livelli spaventosi però era tossica e io assolutamente no che poi eravamo insieme però che lei faceva la sua vita e faceva la mia quindi non è che ci fosse non fare questo non fare l'altro perché non c'era ancora l'idea della distruzione totale attraverso la droga poi dopo un paio d'anni le persone hanno cominciato a morire come mosche quello un altro discorso però al momento sai uno si vuol fare una dose che si faccia una cosa devo dire chi sono io per dire cosa devi fare non devi fare ricordo una notte eravamo a firenze e che lei aveva assolutamente voluto farsi una dose di questa cosa e eravamo insieme quindi in una stanza e a un certo punto lei ha cominciato a vedere delle immagini sul muro era un muro un po così un po strano no non così però sapete quei muri dove ci sono un po di macchie adesso si pittura tutto di bianco allora c'erano dei muri con un po di macchie mi dice comincia a dire vedi questa carrozza che va a questa strada questi alberi così e io vedevo le stesse cose abbiamo passato tutta la notte è stata un'esperienza trascendentale abbiamo passato tutta la notte guardare un muro e raccontarci a vicenda quello che vedevamo in questo muro ampliando questa storia questa favola un po io un po lei e se immaginatevi mi rendo conto che sto raccontando delle cose mie però era una cosa estremamente interessante e quando siamo arrivati al mattino lei non era stanca perché si era fatta sta dose io ero al settimo cielo e al mattino mi sono permesso di dirle guarda che mi è passato una notte piena di gioiosità osservando le stesse cose vedendo le stesse favole su questo muro bianco sporco e questo la colpi la colpi molto perché disse ma allora allora si può fare è un lavoro che si può fare e in quel momento mi resi conto che la mia promessa aveva un senso e la mia promessa che io avevo fatto a me stesso è sono sicuro che si può arrivare a provare uno stato di benessere come provano i miei amici in seguito a delle sostanze senza prendere alcuna sostanza boh adesso sono entrato in questo discorso lo finisco per carità però questo è già un'idea è ancora un aspetto della risposta a questo tipo di domanda e cioè mentre la droga a segue assolutamente la legge di compensazione penso che la maggior parte di voi sappia che cos'è ma in due parole che cos'è la legge di compensazione quando noi siamo in uno stato di euforia che non è dovuta che non è uno stato di gioiosità perché quando siamo in uno stato di gioiosità non ci sono controindicazioni quando invece siamo in uno stato di euforia e la droga provoca molta euforia questa euforia si paga sempre con la frustrazione e con la tossicodipendenza dove lo sto a spiegare anche se è molto precisa questa cosa è molto precisa dal punto di vista animico ma sì che ve lo spiego che se ne frega ma sì no tanto tutto dammi un calcio e e quando vuoi ti alzi vai avanti allora la gioiosità esistenziale la felicità esistenziale dipende da tante cose naturalmente ma dipende da un aspetto tecnico particolare è come se il rapporto tra l'anima e la personalità fosse in congiunzione con con una specie di cordone umbilicale e cioè continuamente il mondo dello spirito ci nutre di qualche cosa ad ogni respirazione noi ci nutriamo non solo di ossigeno e di tutte le sostanze che ci servono per stare in piedi per vivere per digerire anche adesso ma noi respiriamo anche dei contenuti spirituali dei contenuti che sono qualitativi devo spiegare un po però come funziona questa cosa qua mi sembra che sia il caso allora qual è lo scopo principale di ogni essere umano lo scopo principale di ogni essere umano è quello di rendere il mondo migliore di come l'ha trovato lo so che la definizione da settimana animistica però ci possiamo anche accontentare è comunque la definizione che ci dà che da un senso alla nostra esistenza cioè veniamo qua e in mezzo al casino comunque cerchiamo di creare maggiore bellezza maggiore armonia non è quello che vogliamo fare tutti maggiore gentilezza maggiore simpatia maggiori rapporti umani maggiore comunicazione maggiore tenerezza maggiore compassione maggiore perdono tutte queste cose che ne conosciamo bene non è questo il senso della vita bene quello che le persone non sanno e che invece si può imparare e domani se volete ci lavoriamo un po e che questo questo impulso alla bellezza questo impulso alla giustizia alla verità alla bontà è un qualche cosa che scorre attraverso di noi ad ogni istante non ci abbandona mai ogni respiro anche quando stiamo dormendo ogni respiro contiene in sé un aspetto energetico un aspetto qualitativo importante questo un po alla volta è fondamentale rendersene conto se non si vogliono consumare le energie perché sto sempre rispondendo a quella domanda è sempre così da cose cioè si può essere consapevoli durante tutta la giornata che ad ogni respirazione succede qualcosa e questo qualche cosa che cos'è è come se per parafrasare il vangelo è come è come se io dicessi questa frase ascoltate questa frase e mettetela in relazione con la respirazione non è così semplice però cercate di farlo non ti preoccupare di ciò che mangerai di come vestirai perché comunque il padre ti dà tutto quello di cui tu hai bisogno più o meno ci siamo capiti questa è una frase del vangelo e se noi ci soffermiamo un attimo su questa seconda parte che dice ma il padre tuo sa di cosa tu hai bisogno interessante questa frase vedete che noi possiamo posizionare questa frase a livello del cervello e dire a che bello il mio padre mio sai di cosa ho bisogno perché non mi fa vincere la lotteria perché non mi fa digerire che ho mangiato troppo sapete come funzioniamo noi ma se incominciamo a prendere sul serio le frasi del vangelo ora queste ci cambiano la vita completamente perché questa frase da sola per me per me è un senso e mi piacerebbe tanto che avesse un senso anche per voi pensate se fosse vero ed è vero cioè in questo momento il padre il creatore quello che volete si sta occupando di lui perché lui sa di cosa avete bisogno doveste fare uno sforzo adesso se noi andiamo tutti a casa e immaginare che sia vero e immaginare che questa frase sia diretta a voi mi capite questo esercizio non ha nessuna controindicazione nessuno quindi lo potete farlo dovete fare se non lo fate restate sempre la superficie vi ripeto questa cosa e voi immaginate fate finta non importa se fate finta non importa però almeno ci provate una volta nella vita è pensate se fosse vero quindi il padre tuo poi dite creatore la madre quello che volete sa ad ogni istante ciò di cui tu hai bisogno per me è una realtà è un po la volta si può entrare in questo stato di coscienza attenzione non diventa più una realtà nella quale credere ma diventa una realtà che si può toccare allora come il padre si occupa di me in questo momento capite mi seguite fino qua si occupa di me attraverso la mia respirazione spirituale e cioè ad ogni ispirazione c'è una specie di forza che gesù chiama lo spirito santo ma non sballoccatevi troppo il cervello perché le parole sono molto strane molto abusate però è comunque una forza che la forza della creatività che la forza dell'evoluzione che ad ogni istante mi dà dei contenuti qualitativi cosa vuol dire vuol dire che quando io mi sveglio alla realtà esco da matrix mi sveglio la realtà percepisco in tempo reale quello che devo fare ve lo spiego meglio respiro c'è un contenuto qualitativo che arriva e voi chiunque può diventare consapevole di questo contenuto qualitativo non solo parole al vento sono cose che si possono dimostrare quindi immaginate che sia così respirate in questo respiro c'è una specie di messaggio il quale messaggio non è qualcuno che vi parla nelle orecchie oggi si un po più gentile fa il bravo è stato rimando all'inferno non è così lo immaginate bene anzi se voi sentite un messaggio di questo genere andate subito lo psicologo vi consiglio perché non è così che funziona il mondo spirituale non è assolutamente così però questo messaggio c'è e si può percepire con chiarezza cosa succede quindi ad ogni respirazione questa respirazione mi spinge se io lo so interpretare vedete sto parlando interpretazione verso il buono il giusto il bello il vero cioè tutti gli aspetti di armonia che io posso come anima incarnare nella mia giornata vedete fino a qua mi avete seguito bene allora da cosa dipende questo questa respirazione spirituale da questa specie di cordone umbilicale che unisce immaginatevelo però e non siate molto rigidi questo cordone umbilicale che unisce l'anima alla personalità quindi l'anima riempie di sé la personalità la personalità si ascolta qual è la massima manifestazione di bellezza di un essere umano e quando la sua personalità si mette al servizio completamente della vita spirituale queste sono cose che sapete cioè quando la personalità smette di fare i capricci di disperdere energie a destra sinistra ma finalmente capite un qualche cosa che è molto semplice e cioè voi capite che il massimo della bellezza che voi potete realizzare sul pianeta terra è ascoltate bene è ascoltate bene non io ma il padre attraverso di me vedete tutte queste frasi fino a quando noi non non abbiamo orecchie per ascoltare sono buttate lì e non hanno molto senso a non io ma il padre capite cosa voglio dire non io ma il padre attraverso di me va bene cosa cambia cosa che adesso che l'ho detto cosa cambia non si tratta di dire questa frase si tratta di percepire la realtà di questa frase la realtà profonda vedete la differenza è tra l'ascolto quantitativo a si parla attraverso di me e mio nonno mio nome pirata no il padre attraverso di me perché è così e quando voi arriverete a percepire ea a interpretare questa respirazione allora vedete che effettivamente la vostra gioia la vostra il vostro benessere quotidiano consiste non più nel fare qualche cosa che chissà che cosa ma nel manifestare questo tipo di energia questo tipo di messaggio che voi recepite istante dopo istante si può fare si può fare certo domani se volete ci lavoreremo un po abbiamo un sacco di tempo magari potremmo anche cominciare con delle domande anche domani perché no perché no visto che basta una domanda questa domanda ce l'abbiamo per due giorni perché importante perché vi ho parlato di questo avete capito questo cordone umbilicale quindi più più noi viviamo nel mondo spirituale più questo cordone umbilicale si allarga semplice e quindi io respiro più contenuto spirituale è logico questo più sono centrato sulla mia personalità e più questo cordone umbilicale si restringe e la maggior parte degli esseri umani vive in uno stato di apnea è inutile che ve lo spieghi questo che non è un'apnea solo di respiro respiratoria anche ma è un'apnea di tipo spirituale quando si perde il senso delle cose adesso il mondo sta andando in una direzione dove questo condone umbilicale si sta restringendo e la gente sta diventando matta perché non riesce a più capire il senso dell'esistenza per cui fanno delle cose dicono delle cose che non hanno senso e questa è questo restringimento sta andando verso dei punti di non ritorno perché vi ho detto tutto questo perché la droga allarga questo cordone umbilicale vedete dove volevo arrivare allora tu sei una persona normale ti fai una dose di qualcosa questa dose per delle ragioni si possono anche vedere perché c'è uno sfasamento dei corpi sottili sta di fatto che succede questo questo cordone umbilicale si allarga per cui si entra nel mondo spirituale senza sapere che il mondo spirituale perché poi si vedono non so se avete presente le esperienze di droga insomma a parte che avete la faccia tutti i drogati però capite cosa voglio dire tutti quanti noi ne abbiamo conosciuti non è conosciuti in effetti quando ha voglio che così spalancati così a come si sta bene beh da un certo punto di vista si può capire cosa succede quindi c'è questo cordone umbilicale che si si amplia poi se non se non sanno come vivere la vita spirituale la vivono terra terra no ascoltano la musica che bella questa musica mi fa sognare mi capite cosa voglio dire se siete all'interno di un cammino spirituale fate alcune cose e vedete alcune cose se non siete all'interno di questo cammino spirituale vedete quello che è quello che capita ognuno delle esperienze completamente diverse quindi si allarga questo cordone umbilicale qual è il problema drammatico che non si può accedere al mondo spirituale attraverso delle sostanze psicotrope perché perché il mondo spirituale è molto semplice va meritato la parola che sembra così complicato va meritato cioè il mio cordone umbilicale si amplia nella misura in cui un lavoro faccio qualche cosa fin qui questo avvenga ma se non faccio questo lavoro e lo allargo per mezzo di sostanze qual è l'effetto l'effetto è che finito l'effetto il cordone umbilicale che si è ampliato si riduce un po di più rispetto come era prima allora guardate è così con l'umbilicale si allarga si allarga poi finita la dose è finito l'effetto si restringe un po di più rispetto come era prima vedete per cui ogni volta che voi uscite dalla dalla dose vi sentite male vedete come funziona perché vi sentite male perché mentre voi ampliate questo cordone vivete nello stato di felicità li avete visti conoscete sapete quello che voglio dire vivono stato di felicità non hanno più alcun problema nessun problema possono anche non mangiare posso fare quello che gli pare possono anche attraversare l'autostrada ballando perché non veramente si fidano completamente l'esistenza il problema qual è il problema che non è meritata questa cosa vedete non sto parlando a punto di vista morale sto parlando dal punto di vista matematico proprio non essendo meritata alla fine della dose si restringe un po di più il che cosa vuol dire il che se eravate degli sfigati prima alla fine della dose siete un po più sfigati di prima vedete allora cosa succede succede che dovete aumentare la dose per recuperare quell'apertura che la prima volta era più semplice ma ogni volta avete bisogno di è questa la tossicodipendenza vedete ogni volta avete bisogno di aumentare questa dose fino a quando cosa succede alla fine succede che avete bisogno di una dose massiccia per essere normali cioè per essere degli sfigati così è purtroppo un dramma è un dramma planetario questo a un certo punto la droga non fa più niente se non portarli allo stato di normalità vedete vedete come sia drammatica questa questa essere dentro quella situazione è una cosa di una sofferenza di un dolore interiore per queste persone si sono auto condannate a una specie di morte psichica sapete cosa voglio dire poi il processo di disito di quella roba lì è lunghissimo e fa molto faticoso vedete come funziona allora questa questa promessa che mi ero fatto all'inizio di quando arriva questa droga e beh osservando queste cose fortunatamente avevo la capacità già allora di osservare di vedere queste cose no non che vedo le anime volare no ma semplicemente guardo gli esseri umani vedo come si comportano vedo questa cosa non vedo che uno è euforico che è tutto bravo poi quando finito la dose incomincia cercando un'altra è indubbiamente senza giudizio alcuno però quando vedo un mio fratello mio amico che che è così in cerca di di una dose e che non ascolta più niente che ruba ruba i soldi alla nonna dal cassetto storie che conosciamo beh allora lì si dice un momento qua c'è un momento c'è qualcosa che non va si vede subito dal primo giorno però poi quando la gente comincia a morire lì ti rendi conto di questa cosa qua perché vi sto dicendo tutto questo perché comunque questo aspetto dell'energia è una questione di interpretazione dell'esistenza quindi il primo aspetto per recuperare l'energia e conoscere il mondo dello spirito adesso vi ho fatto qualche esempio non ho fatto l'esempio della coppia che ho fatto esempio della droga sono esempi vi posso parlare di tantissime altre cose però almeno le conoscete e conoscere è importante la conoscenza da sola non va da nessuna parte però la conoscenza supportata da un certo atteggiamento di apertura spirituale è fondamentale questa cosa ritorniamo all'inizio poi ti lascio ancora due minuti ritorniamo all'inizio abbiamo detto che l'attaccamento è la causa di tutte le sofferenze umane essere su una vita su una via spirituale cosa vuol dire cosa vuol dire vuol dire che dal momento in cui percepisci un tuo attaccamento in quel momento puoi percepire la sofferenza nel momento stesso in cui tu metti in atto l'attaccamento vi devo spiegare sta cosa però perché importante già la frase l'avete capita cioè si può arrivare a percepire i danni dell'attaccamento non più a distanza di tempo ma in tempo reale lo spiego bene però però meno però la frase l'avete capita cosa voglio dire come funzionano le malattie su questo pianeta le malattie sono dovute a un attrito tra questo respiro spirituale e la nostra capacità di manifestare questo respiro spirituale mi seguite bene il benessere esistenziale consiste in questo consiste nell'interpretazione se possibile in tempo reale di ogni respirazione questa respirazione mi dà un impulso esistenziale un impulso esistenziale mi fa muovere mi fa fare qualche cosa va bene se io riesco a interpretare questa cosa metto in atto quello che questa voce questo impulso mi dice di fare quindi non io ma il padre attraverso di me e questo è il segreto del benessere esistenziale quando noi non applichiamo questo principio quindi ci rigidiamo in un certo senso quindi entriamo nell'attaccamento per esempio nell'identificazione col mondo quante volte ci è successo sempre va bene cosa accade accade che si crea un attrito esistenziale tra questo impulso che mi spinge a rendere il mondo più bello più armonioso e questa diga questo peso della personalità che mi fa fare tutt'altro guardate bene respiro e in questo respiro c'è il non attaccamento perché è un respiro spirituale in questo respiro c'è questa cosa mi seguite un po strana però c'è cioè voi a un certo punto non avete più bisogno di studiare di leggere dei libri di fare niente respirate e questo respiro è come se vi dicesse se oggi avrai delle forme di attaccamento soffrirai molto semplice però questa cosa non l'avete imparata da un libro semplicemente questa cosa l'avete respirata cosa accade quindi accade voi respirate questa cosa non attaccamento lì con voi poi durante la giornata vi lasciate andare a dei momenti di attaccamento la vostra fidanzata dice non ti amo più qualsiasi cosa ci siamo mi seguite in quel momento sviluppo un attaccamento e sviluppo una sofferenza va bene cosa accade quando si possono risparmiare le energie perché si vive appieno nel mondo spirituale succede che la forza che noi diamo a questa diga a questo attrito non è mai la stessa forza come qualcuno che non faccia un lavoro di tipo spirituale mi capite cioè la vostra fidanzata vi dice che non vi ama più e la la tremenda forza che voi mettete nella rabbia nella vendetta e tutte quelle cose che noi conosciamo è quantitativamente e qualitativamente parlando in un certo modo in alcune persone e in un altro modo in altre persone è evidente è evidente questo cosa vuol dire vuol dire che quando voi imparate a vivere in tempo reale e avete presenti questi principi potete sviluppare l'attaccamento lo sviluppate quindi l'altra persona vi dice che non vi ama più e voi dite porco porco perché qui perché la la strozzo cosa faccio le donne dei cacci in culo queste cose arrivano ma cosa succede succede che dentro di voi c'è un punto di luce che non vi molla più e quindi mentre voi vi lamentate perché è anche normale lamentarsi quando quando qualcuno ci lascia non è questo il punto però c'è all'interno di noi qualche cosa che osserva sempre ed è il testimone dell'anima che osserva ciò che sta accadendo e si rende conto che in quel momento si è creato un attrito esistenziale cosa accade allora che le energie che voi potreste dare a questo dramma che vi che vi spegne interiormente vi ricordate vi ricordate mi spegne vi stronca interiormente si può anche cadere in depressione ci si può anche buttare da un palazzo non so se vi rendete conto e ci si può ammazzare per queste cose qua quindi vedetevi conto dubbiamente ammazzarsi cosa significa è il massimo del basso della sfiga insomma no quindi dall'ammazzarsi da cadere in depressione alca la comprensione ci sono tantissimi gradini noi dobbiamo lavorare per questi gradini vedete che sto rispondendo alla sua domanda come si fa a risparmiare energia quindi se voi vivete nella logica spirituale nella respirazione spirituale vedete i vostri attriti e paradossalmente dopo qualche secondo non potete che sorridere perché vi accorgete in quel momento guardatevi proprio un'espressione che secondo me è molto bella vi accorgete in quel momento che voi state vi state dando delle martellate sulle dita immaginate questa cosa voi siete lì vi date una martellata su un dito c'è un altro che vi guarda e vi dice ma scusami ma cosa stai facendo e dice la mia fidanzata mi ha lasciato si stava bene ha lasciato ma non è che vi devi dare le martellate sulle dita riuscite a fare a fare come si dice la connessione riuscite a fare la connessione per un essere di luce che vi guarda mentre voi state soffrendo per queste cose per queste queste cose per lui non esistono non ci sono non esistono quindi gli esseri di luce guardano gli esseri umani disperdere una marea di energie in qualche cosa che non ha né capo né coda questa è la storia degli esseri umani e questa è la matrix l'economia allora volevo rilacciarmi a quello che ha detto lui due due termini che ha usato interpretazione e alla fine utilizzata anche la parola punti di luce il seminario di domani si intitola la trappola e come uscire dalla trappola perché usiamo la parola trappola è una nostra interpretazione questa della della nostra situazione allora vedete tra le tra quando dice trappola e arrivare al punto di luce c'è un abisso tra le due cose voglio spiegarvi un attimo questo se noi iniziamo a cercare di modificare il nostro modo di il nostro approccio con l'esistenza il nostro modo di vedere le cose allora tutta l'esistenza può iniziare avere un senso completamente differente è ovvio che noi viviamo su un pianeta che è che è folle è ovvio che ci sia un qualcosa di indotto che complica tremendamente le nostre vite diciamo che in una situazione normale noi come come anime ci incarneremo su questo pianeta per fare le nostre esperienze qualcuno deve imparare il perdono la compassione insomma per ampliare il nostro bagaglio animico e fare le nostre esperienze però cosa succede noi arriviamo qua e al posto che trovarci in una situazione ideale dove poter fare queste esperienze è come se il livello di difficoltà fosse stato aumentato tremendamente e quindi tutte queste nostre esperienze che noi facciamo che inevitabilmente facciamo sembrano essere molto più complicate di quello che sono ma questo perché perché c'è questo sistema di addormentamento questa matrix come la definiamo che è andata a creare delle strutture possiamo dire delle strutture sociali strutture economiche strutture morali tutto quanto esi perché questa matrix è molto molto vecchia quindi c'è da molto prima di quando ci siamo noi e lavora incessantemente per mantenere il suo potere su questo pianeta allora cosa ha fatto ha creato tutte queste strutture in modo tale che noi nasciamo ci ritroviamo in un ambiente dove non abbiamo alcun punto di luce o meglio i punti di luce ci sono ma non li sappiamo riconoscere non li sappiamo interpretare cioè non sappiamo interpretare in maniera corretta in maniera spirituale da un punto di vista spirituale tutto ciò che ci accade nell'esistenza perché il mondo spirituale ci viene tenuto nascosto il lavoro è difficilissimo però è molto semplice fondamentalmente è proprio una questione di interpretazione cioè iniziare avere degli occhi diversi che non ci insegna che nessuno ci insegna però perché noi andiamo a scuola abbiamo dei professori che ci insegnano determinate cose a livello quantitativo e dal punto di vista umano sono anche loro delle persone addormentate la maggior parte non tutti ovviamente io ho incontrato i professori che erano delle persone straordinarie che mi hanno non mi hanno mai parlato di mondo spirituale però con il loro entusiasmo per esempio per la poesia per la storia per il disegno la loro tolleranza la loro comprensione la loro c'erano dei professori che erano facevano usavano gli allievi come dei capri spiatori arrivavano con tutte le loro frustrazioni beccavano uno due tre dei più sfigati della classe e li bastonavano andava così invece ce n'erano degli altri che e caspita ti guardavano e se vedono delle difficoltà in te al posto che bastonarti ancora di più tiravano fuori il loro entusiasmo la loro pazienza la loro la loro energia dedicavano le loro energie a te a tutti quanti ma anche tu che eri in difficoltà al posto che schiacciarti ancora di più ti dà una mano a tirarti su a capire la tua situazione a cercare di migliorare ecco questo già potrebbe essere vedere come sarebbe la la matrix da da trappola a una scuola ecco potremmo vedere questa differenza comunque noi cresciamo in questa maniera la famiglia anche loro stessa cosa ognuno i nostri genitori ognuno con i propri problemi ognuno con i propri traumi col proprio passato con le proprie con le proprie convinzioni la politica la morale la religione tutto quanto insomma è fatta per per tenerci in uno stato di addormentamento ma più che di addormentamento secondo me è più come come un qualcuno che ci distrae no perché dappertutto possiamo trovare degli esempi evolutivi degli esempi che ci possono fare fare crescere che ci possono sostenere che ci possono dare entusiasmo gioia esistenziale ma invece loro ci distraggono ci fanno vedere sempre delle altre cose ci portano via ci portano nel mondo della sopravvivenza il mondo della competizione dove se vogliamo sentirci vivi dobbiamo correre non possiamo mai fermarci infatti quello che ha detto lui che a un certo punto si è si è detto se io non capisco come funziona questa vita è la mia vita è sprecata e immagino che tutti quanti noi in un certo punto abbiamo vissuto magari non in maniera così netta perlomeno a me non è capitata in maniera così netta non in maniera consapevole ecco mettiamolo così ma a un certo punto da pensare solo a determinate cose nella mia vita proprio queste cose di del mondo competitivo del mondo di matrix quindi l'unica cosa che mi interessava era il guadagno era la mia posizione sociale era l'idea che gli altri avevano di me la mia immagine tutte queste cose a iniziare a dire un momento ma non è che magari magari la vita che ho vissuto fino adesso è manchevole in qualcosa non è che magari c'è qualcosa di più qualcosa di diverso a cui io posso verso io cui posso dirigermi e allora da lì immagino che tutti quanti voi avete fatto questa questo passo che noi abbiamo chiamato la nascita al mondo spirituale c'è proprio questo questo momento in cui è come se a un certo punto c'è qualcosa in noi che si sveglia esplode e tutto quello che si vede intorno cioè la nostra vita inizia avere un altro senso se inizia i nostri occhi si sempre lavoro sempre competizione però c'è qualcosa che inizia a tirarci da qualche altra parte da lì inizia il nostro percorso interiore ecco da quel momento lì noi dobbiamo iniziare a dedicarci a come scovare questi punti di luce come fare a vedere questi punti di luce e per prima cosa dobbiamo conoscere come funziona la matrix la matrix è un punto di vista orizzontale ve l'ho detto sono delle strutture delle strutture sociali morali eccetera eccetera ma più che altro dobbiamo iniziare a vedere come funzioniamo noi dentro perché se noi iniziamo a conoscere come funzioniamo noi dentro per analogia possiamo capire anche il fuori conosci te stesso e conoscerai il mondo detto questo iniziato a fare questo lavoro poi è un po complicato bisogna iniziare a osservarsi conoscersi iniziare a studiare i mondi i mondi spirituali come funzionano conoscere una sorta di conoscenza però come ha detto lui la conoscenza non basta c'è proprio da fare il passo difficile è a un certo punto bisogna iniziare a vedere l'esistenza da un altro punto di vista se no altrimenti questo questo questa ambiente in cui siamo noi imprigionati la vedremo sempre come una prigione come una trappola e mai come un qualcosa di semplicemente evolutivo ok perché fondamentalmente questo se noi iniziamo a riuscire a a spostare il nostro il nostro modo i nostri occhi iniziamo a cambiare il nostro modo di vedere le cose per esempio la sofferenza la potremmo iniziare a vivere in maniera diversa ci sono delle sofferenze che è inevitabile che ci distruggono dentro però ci sono effettivamente diciamoci la verità ci sono delle cose che durante la nostra giornata ci fanno perdere un sacco di tempo e potremmo benissimo sono alla nostra portata insomma sono lì che possiamo possiamo evitare per esempio parlavamo di energia drogarci di di tutte queste di tutte queste notizie negative di tutto quello che succede senza fare una cernita di quello di tutte le notizie che arrivano insomma anche questa una perdita di energia insomma ci possono essere dei piccoli dei piccoli accorgimenti nella nostra vita di tutti i giorni che ci possono far guadagnare energia oppure oppure come prima ha detto per esempio la nostra fidanzata nostro compagno ci lascia e ci diamo noi delle martellate sulle mani un conto è vivere il dolore un conto è soffrire un conto essere tristi perché comunque siamo esseri umani non è che si possono cancellare le emozioni inferiori anzi le emozioni inferiori sono un aspetto delle emozioni cioè fondamentalmente non ci sono emozioni inferiori o superiori siamo noi che le cataloghiamo per darci dei punti di riferimento mentali perché noi siamo persone mentali abbiamo è il nostro è il nostro la nostra parte mentale che dirige la nostra esistenza che ci fa scoprire l'esistenza però cosa succede se noi invece iniziassimo a vivere le emozioni non in quanto inferiori o superiori ma proprio come emozioni come qualcosa che fa parte della nostra esistenza quindi soffriamo godo la mia sofferenza senza distruggermi me la me la vedo me la guardo me la me la vivo perché no a volte io nella mia vita mi ricordo che alcuni dei momenti più belli della mia esistenza sono stati momenti di di delusioni d'amore per esempio perché no solo che adesso adesso passati questo vi parlo di quando ero un ragazzino 15 16 18 20 anni anche adesso no aspetta 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 no 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 non sai cosa voglio dire adesso invece le delusioni se prendessi una delusione d'amore non riuscirei a viverla con quello spirito ingenuo con cui la viveva 18 anni magari adesso posso iniziare a guardarla a vederla però mi distrugge molto di più la cosa rispetto a prima perché perché in tutti questi anni inevitabilmente sono stati immersi in un certo tipo di pensiero in un certo le mie la mia struttura la mia organizzazione interiore dei miei schemi mentali erano quelli intorno a me è sempre funzionato così e allora cosa succede ai 18 anni siamo ancora pieni pieni di energia pieni di volontà pieni di gioia pieni di ingenuità allora riusciamo a viverlo un po meglio anche se guardando i miei cuginetti persone di quell'età lì vedo che ora la vivono in maniera molto meno serena rispetto a prima la vedono la vivono in maniera molto più molto più pesante quasi come se fosse una persona molto più avanti con l'età quindi se io già se io già soltanto riuscissi a riprendere un po piano piano col lavoro di sé il nostro obiettivo è riprendere un po quello stato gioioso che ingenuo pieno di entusiasmo che pieno di voglia di scoprire che avevamo quando eravamo ragazzini adolescenti perché veramente una scoperta la delusione la sofferenza se vista come una parte della vita non è più una sofferenza è una parte della vita solo che adesso diciamoci la verità se noi soffriamo ci sta ci sta qua la cosa ma non soltanto con noi stessi io adesso un po che non ho momenti di sofferenza da quel punto di vista lì però mi ricordo quando avevo intorno ai 30 anni ho avuto una grossa delusione d'amore momentanea è la mia preoccupazione principale oltre la mia sofferenza era la mia sofferenza non era tanto dato da tanto da la delusione amorosa in sé ma tutto il contesto e i miei genitori che mi rompevano le scatole e i miei amici che mi prendevano in giro perché mi ero preso e insomma era questa ma poi il problema è questo è proprio matrix immaginate immaginate se matrix non ci fosse se la trappola non ci fosse la tua finanziata va con un altro l'amico o il familiare dice veneriti da un voto sulla spalla e se dai vedrai adesso piangi infatti da tuo pianto stai male una settimana e dopo vedrai che questa cosa qui non continuare a pensarci vedrai che dopo ti rialzi e vai ma infatti noi quando avevamo 6 a 7 anni delusione d'amore tempo una settimana ma dipende a che ottava è se rotava alto lottava bassa perché a 17 anni sì sì però dipende sempre da chi ottava perché io mi parlo per me penso che però guardandomi dentro penso che non sia molto diverso per le altre persone la questione se io la prendevo la mazzata la prendevo a 17 18 anni 20 anni avevo più questo impulso a poter rialzarmi la prendo adesso è qualcosa di più di più macchinoso ecco mettiamolo così perlomeno più macchinoso o poi c'è chi è illuminato e va alla grande insomma fuvi un papa dentro un altro per l'amor di dio però la parola secondo me il tutto di questo lavoro della dell'interpretazione dell'interpretazione è la base per uscire da matrix iniziare a guardare la realtà con altri occhi e sicuramente domani passeremo gran parte della giornata magari a vedere come funziona matrix e poi anche vedere come iniziare a guardare le cose in maniera differente perché no nella nostra vita di tutti i giorni